ehi ragazzi siamo tornati io sono papi che buono quattro delle domani questi quattro e oggi giocheremo delle partite normali traremo delle partite normali su stumble guys come succede sempre io vincerò no si succede sempre questo forti fatelo sono caricati subito questi non sono botti io proprio perché giocare con il bot una volta giochiamo con i forti una volta con i botti perché giochiamo sempre con i botti non c'è sfizio ma comunque vediamo che succede ma funziona internet ok ma si la voce a zero un po zero non ho messo basso e che cos'è la peggiore turbo tempo questo è una mappa dove tu devi restare sulla macchina sulla macchina ma c'è pure il nitro e pure il nitro che potuto lo puoi utilizzare lo puoi utilizzare per andare più veloce nudista levati levati nudista the free spirit sono secondo sono primo questa seguì papà non è solo un giro sono due giri questa mappa veramente tanto difficile io l'ho vinta solo due volte con i botti poi e con i botti in finale no no mamma mia ma che sfiga c'era un buco c'è un buco no da una volta in vita mia che la faccio no io l'ho fatto un sacco di volte ma non ho mai l'ho vinta due volte con i botti poi ma che sta succedendo mai con i forti le scriva le asce no tu sei ancora qui sono primo se non erro si sono primo no ma colpito no no fatti fatti tu bene sono secondo il primo giro l'ho completato io non ho capito sto giocando malissimo papà devi papà devi completare due giri di questa mappa ho capito ma adesso ancora al primo mi ho finito il primo vai ce la puoi fare ce la posso fare sì io sono a metà del secondo no oh sì sì mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma ce la puoi fare ma tu sei qui no no non è possibile è possibile ho preso il turbo sono andato a sbattere ma che cavolo no ho fallito ho fallito tutte volte questo ma ma perché non lo metti il turbo ce l'hai e adesso l'ho visto il turbo l'ho messo un miliardo di volte in questa partita mi fiamma non si è qualificato ancora da nessuno eh sì io quasi sì ce ne sta uno davanti a me ci sta un ninja davanti a me che è un ninja si è un ninja attenzione attenzione non mi piace tanto questo livello eh eh io sono arrivato terzo troppo cervellotico terzo sono arrivato vabbè io sto quasi penso alla fine che sto alle asce no vabbè le asce sono allo sviluppo vabbè stai arrivato alla fine questo ti voglio guardare eccolti hai ripasato 7 e resisti penso che ce la faccio dovrei farcela no vabbè sì ce l'ho fatta ma è undicesimo undicesimo non male per essere una volta in vita io sono arrivato terzo e tu undicesimo eh ma è la prima volta in vita mia che faccio questo livello eh io l'ho perso un sacco di volte la prima volta che lo facevo ma sai perché perché stavo giocando perché alla finale ma vedo quelle delle skin che non ho mai visto tipo io la golden banana la banana ho visto uno per tuvesti di play mappa bella non so se qualificarmi qui con questi forti vedi che skin ho tu c'hai il coniglio ma io c'ho il coniglio non ci ho fatto proprio caso perché penso che facciamo dove la macchina ebbè sono primo volete vedere che adesso faccio un bel cheat no se ancora prima sono alla fine ma mia che cosa sono bel trick final vabbè io sono arrivato primo io arrivo secondo un attimo qua e che ne sai terzo non male dai non male però sono forti questi qua pure il ninja come si lanciava hai visto guarda il ninja la banana 5 il draghetto 6 ci sono stati delle speciali questo draghetto speciale vedi in finale si vedrà tutto non so il botto questi cosa sono forti vediamo che cosa esce in finale sta pure il geppo cinese speriamo una mappa di sopravvivenza vediamo che ne esce uno che piace a me bot dash no bot bash lo so per dire tutto ma non bot bash per il splash no vabbè però mi lagga perché tu l'hai scelma di me mamma no tu hai detto per il splash già l'avevi visto ma no no perché stavo andando lento si capiva bene 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 no che cavolo stavo giocando bene ho vinto io eh lo so per poco mannaggia staccato e quindi di nuovo dobbiamo unirli questi due pezzi vabbè 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 che ti fa gioca no che cos'è qui abbandona si stai facendo partita personalizzata adesso eh di pubblicità ok ho messo i miei round quelli più quelli più belli che ti fanno fare più ginnastica ah ma quindi l'hai fatta personalizzata ma non ci chiamo per la corona no ok ce l'ho vinta prima la corona con colpa dai ma questo 23 ne hai messo che? 23 giocatori no ma sono sono entrati 23 giocatori per ora ne caccia subito altri altri sette gli altri nove siamo 32 allora si si e niente i bot si mettono davanti si si mettono mi fanno vedere che strada devo fare questi imbaicilli tanto arrivo primo dai no 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 aspettiamo a questo dai però dai però dai però ne stiamo lavorando ma sto giocando proprio male sto giocando proprio male vabbè youtube vero non c'è quando faccio anche il trick su un giocato malissimo che sono stato giocato malissimo sono arrivato secondo ecco ti ma trick mannaggia vorrei che perdo pure per fare sto trick ma no che perdi dai ci vuole provare per un'altra cosa lì e quaticano il futuro oi io avevo dato i carri di ferdo prima e ottavo mamma mia guarda che bello il coniglio rosa e la banana d'oro che te ne ha mano 5.000 banane mi è costato mamma mia abbiamo fatto anche la copertina quindi inutile. 11 di 16. Ma io lo faccio anche non sono quello della forza. Adesso vediamo cosa esce nel secondo round adesso. Vediamo. Vabbè io già lo so. Che esce? Esce una mappa che ti fa viaggiare. Non ci credo 14 sono qualificati. Ma uno mi hanno sbattuto la porta in faccia. Solo che inoltre hanno sbattuto la porta in faccia a quell'altro la vicino e va tutta la porta pure a qualcun altro un po' ma non tanto l'interno. Questa è la lampa del viaggio perché sto sulle macchine guardami che bello. Guarda che sono la banana d'oro ho visto dal telefono. Chi sono? Tu sei coniglio papà. Ti puoi scordare chi sei. Infatti scordi sempre che sono coniglio. Papà vuoi avere un pugno da me? Non ci tengo proprio. Guarda che ti sono a fianco eh. Mamma mia non so manco io come mi sono salvato. Mamma mia. Vai. Ah qualificati non era la finale questa qui? No. Pensavi che avrei vinto. Siamo rimasti in sei a ballare l'allicaldi. Sono in otto. Sono eliminato, sono stati eliminati in sei. Ah sei di sei uguali eliminati ok. Ma pensavo che avevi vinto. No pensavo che rimanevamo solo e te. Oh ho avuto il sole troppo. Vuoi proprio perdere allora? No. Va bene allora io userò la mia tecnica sopraffina. Quella di distruggere tutto il piano di sotto così vi andate tutti quanti a fare la doccia. Vabbè che molti già sono caduti di questi idioti guarda. No 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 vabbè no vabbè no vabbè no non ci credo ma è veramente incredibile. Vabbè al terzo sì perché al secondo non ti vedo. Sì è soccato di due piani. Siamo per cadere al secondo io 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 cerco di fare tutto il primo. Dai si potrei riuscire a fare se al mio contatto è. Vabbè se al mio contatto è. Vabbè se al mio contatto è. Vabbè si giocatela bene perché sono ancora al primo piano un miliardo di piattaforme se posso mettere a registrare o non metto perché se no cado. Per farti vedere. Non me la sto giocando. Quante piattaforme ho. No. Madonna sto l'ultimo piano. Wow io ce n'ho un sacco allora sopra. No vabbè. Vuoi vedere che ora allora. Eh vabbè sto caduto pure giù. Ma non si può. Ho giocato malissimo. Ma non si può. Ho giocato proprio male. Ah. Vabbè male male male. Ora faccio un più più. Facciamo quanto one. Ne ha sulla setraser vai. Non so ne troppe. No ne troppe. No ne troppe. La setraser è brutto. Va bene. La setraser è brutta. Abbandona allora. Sì. Ok vai spara. No. Ci ho ripensato. Ho messo tre giocatori così abbiamo un bot che ci distrugge un po' di piattaforme. Vai. E così non può scadere il tempo. L'ho fatto per te. Il tempo scade comunque. No. Sì. E dimmelo come fa? Eh alla fine dura. Si mica vuol durare l'infinito. No vabbè raga. Questa banana d'oro. Soltanto a guardarla mi viene. Mi viene la voglia di spenderglino mille euro e darglieli talmente. Che figa. Cioè darei mille euro al creatore di questa banana. Purtroppo che non possiamo. Perché è troppo. Andiamoci a giocare questa finalissima. One to one. One to one to one. Perché siamo a tre poi. One to one to one. Vabbè 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 questo qua perde subito. L'ho fatto soltanto per farci per fare così. Che ne sai che perde subito? Ci pensi di vincere lui? No. Non può. Ma vincere lui ci fa i cd. Cioè è Maradona. È Maradona. No. Sono caduto. Sono caduto. Non ho fatto né blu. Cioè ma magari vincere lui in giusto alla seconda. Mamma mia mamma mi sai per far cadere. Frati ti ti ha fatto cadere. Vedi perché ti ho distrutto la piattaforma. No io non sono caduto. No. Sono ancora il primo. Sei ancora il primo? Poi sono io che ti ho un po' distrutto la piattaforma. E te l'ho distrutto io queste. Eh mamma devi scendere. Forza per tutto perché ha finito pure il giro fratello. Vieni che ti aspetto. Vieni. Vieni che ti aspetto. Nel frattempo ti distruggo tutto. Vieni. Secondo piano. Sei arrivato no? Sì. Ma mia mamma va però quello là un vertuccio l'ha fatto. Oh poverino ti ho distrutto tutto. Oh poverino mi dispiace. Mi dispiace. Guarda ti potevo tirare un pugno. Non ve l'ho voluto ma non cercandoci di tallonare, di distruggerci. Eh quello è il gioco. Facciamoci la nostra giocata. Quello è il gioco. Vedi io adesso ho quello di tutto tutto. No mi ha fatto cadere. Mi dispiace. Perché papà mi ha allargato. Eh ti ha allargato o quello è il gioco? Io sto ancora sulla botta. No. No. Cosa ti impari? Madonna sono caduto di due scalini. Ma ti distruggo tutto fratello. Solito tempo infame. Solito tempo infame. Mi godo. Vabbè ragazzi se il video vi è piaciuto un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da papi. Ma questo qua sta ancora balando. Ciao. Siamo che abbandonata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.